Le antiche terme di Sardara, in provincia di Ulistano, si trovano in località Santa Maria Aquas, a due chilometri dal centro di Sardara. Sono fra le terme più antiche della Sardegna. Le acque termali delle terme di Sardara prendono origine dal percolamento delle acque meteoriche, scendono a migliaia di metri di profondità e poi riemergono mineralizzate ad una temperatura che varia dai 45 ai 60 gradi centigradi. Le acque sono bicarbonato-alcalino-sodiche, ipertermali. In Italia acque di questo tipo sono molto rare. In Europa le più note sono quelle di Vichy. Le acque e i fanghi delle antiche terme di Sardara hanno uno spiccato effetto eudermico, ossia stimolano il microcircolo e il metabolismo cutaneo, esplicano azione antinfiammatoria, antisettica e detergente. Trovano perciò indicazione nel trattamento di molti inestetismi causati da affezioni come la cellulite, l'acne e l'invecchiamento. Ma le acque bicarbonato-alcaline esodiche, attraverso le cure idropiniche pervenute nello stomaco, tendono anche ad aumentare il pH ambientale neutralizzando gli stati di acidità. regolarizzano inoltre la contrattività gastrica. A livello epatobilio-pancreatico, tali acque esercitano effetti positivi sulla produzione e fluidificazione dei secreti biliari e pancreatici. Azione antispastica sulla colicisti. A livello intestinale, questa tipologia di acque determina l'attivazione dei processi digestivi e dell'assorbimento intestinale, azione di stimolo nel transito intestinale, azione antispastica. Sull'apparato urinario sono presenti effetti diuretici e protezione verso agenti nefrotossici e batterici.